stiamo andando a fare una scampagnata nel bosco siamo saliti da salto del cane tarderia stiamo andando verso nicolosi e alle mie spalle potete vedere questo poco di panoramio tutto il mare fino ad augusta oggi è di il vero c'è foschia ci vediamo più tardi a guardare perché loro spuntano dal belle buono viaggio in mezzo alla lava questo è il bosco che noi stiamo facendo un pancake un picnic picnic riesce bene come stiamo facendo un picnic mi vorrei vantare perché il fuoco è stato acceso in mancanza di accendino con la pietra focaia un pezzo di carta igienica quindi guardare video su youtube di Bear Grylls serve a qualcosa adesso facciamo partire il Bae Light e poi Sassizza peccato che Eva ancora non possa mangiarla la pasticcia pizza per Bartius sempre in macchina edena cosa stiamo facendo patatine come patatine un picnic c'è chi lavora e chi si allena a fare patatino col naso piccolino panino con sassiccia e il picnic è fatto non ci vediamo te vediamo ti vediamo ti vediamo te vediamo che vediamo no Sì, sì, sì. come fai il coniglietto? 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 come fai il coniglietto?